Questa ultima settimana in cui sono tornato a fare video mi sono reso conto sempre più come sia difficile essere esaustivi e parlare a pieno di un tema nell'arco di un solo minuto. Per cui ho sempre sforato d'altronde e quindi mi sono detto che devo cambiare, qualcosa devo fare, non mi piace lasciare lì temi a metà e mi piacerebbe dare un contributo più importante alle persone che guardano questi video. Per cui ho deciso di fare video pillole ancora molto più brevi da un certo punto di vista quotidiane per dare uno spunto di riflessione quotidiano a chi gradisce e chi vuole ascoltarmi, ma vicino a questo magari mettere un video molto molto più lungo dove vado a approfondire tutti questi temi e farlo però per questione di tempo e di equilibrio una volta o massimo due al mese. Ditemi cosa ne pensate di questo format e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!